Ampio confronto tra i rappresentanti dei comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Pace del Mela, Condro, San Pierniceto e Gualtieri si camminò nel corso di un incontro per discutere in merito alla realizzazione del termovalorizzatore di A2A presso la centrale termoelettrica di San Filippo. La riunione si è tenuta a Santa Lucia del Mela, convocata dal sindaco Nino Campo. Al termine della stessa, i primi cittadini della Valle del Mela hanno deciso di chiedere un incontro al presidente della regione siciliana, Annello Musumeci, e alla deputazione regionale per conoscere la loro reale posizione dopo le tante voci venute fuori negli ultimi giorni. Vogliono ribadire la loro netta avversione all'opera e la decisione di opporsi in tutte le sedi, anche legali ed amministrative, ad ogni decisione ritenuta penalizzante per i cittadini. Nello specifico, si è deciso di inviare una lettera allo stesso presidente Musumeci e all'assessore Vincenzo Figuccia per chiedere un incontro urgente in sede regionale sulla questione termovalorizzatore nella Valle del Mela, al fine di ribadire la contrarietà all'utilizzo del CSS. Il territorio rappresentato è composto dai comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Condro, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, San Pierniceto e Santa Lucia del Mela, che fanno parte delle due aree già riconosciute a forte criticità ambientale e che è stato evidenziato nei vari interventi, nonostante i riconoscimenti ufficiali avvenuti nel 2002 e nel 2005, non sono state mai oggetto di un piano di risanamento ambientale. Gli amministratori locali auspicano anche che vi sia la collaborazione dei deputati regionali neoeletti a Palermo in questa loro battaglia a difesa degli interessi delle comunità locali.